Affinché la politica entri in alcuni social con target più giovanili come TikTok dovrà entrare in modo tale che non sia la politica ad adeguarsi al social network ma il social network in qualche modo dovrà trovare una modalità in cui la politica possa essere più spesa in termini di comunicazione più giovanile.